Federico del Sagrado Corazza Cubico N. D. Gesa Indicatore Ordinale Maschile S. Garca Alorca, pronuncia ipa, feagrado e e trequartico e.esclamativo lovesciato a riconaccento circonflesso i.a. E. Condieresi Lorca, a contilde stato un poeta e drammaturgo spagnolo appartenente alla cosiddetta generazione del 27, un gruppo di scrittori che affronta al quadrato le avanguardie europee con risultati eccellenti, tanto che la prima meta del Novecento viene definita la Eda de Plata della letteratura spagnola. Apertamente a favore delle forze repubblicane, scoppiata la guerra civile spagnola viene catturato a Grenada presso la casa di amici, e per questo fucilato dalla polizia franchista, dopo di Chaco Piraita con Tilde gettato in un burrone ad alcuni chilometri alla destra di Fuente Grande presumibilmente dagli stessi esecutori, miliziani del nazionalismo franchista. Nato in una famiglia di piccoli proprietari terrieri nel paesino di Fuente Vaqueros, Lorca ha con Tilde per vari aspetti un ragazzo prodigio, sebbene non raggiunga mai l'eccellenza, non per incapacità, ma per le pieghe del suo complesso carattere, in ambito scolastico. Nel 1909, si trasferisce assieme alla famiglia a Grenada, vicina città dell'Andalusia, dove ben presto rimane profondamente coinvolto nelle attività dei circoli artistici del luogo. La sua prima opera letteraria, viene pubblicata nel 1918, ma non ha particolare successo, se non in ambito locale. Nel 1919, giunge, per proseguire gli studi, a Madrid, dimorando presso la famosa Residenca Negazione a De Estudiantes. All'Università stringe amicizia con Luis Bua più o meno e le Salvador Dala, cosa negazione come con molti altri personaggi di grande riliedo della storia spagnola. Tra questi, Gregorio Martane Zierra, il direttore del Teatro Eslava, dietro invito del quale Garca Alorca scrive e mette in scena, nel 1919-20, la sua opera d'esordio, Il maleficio della farfalla, che per a quadrato non viene accolta bene dal pubblico. Nel giro di pochi anni, Garca Alorca sa ribaltare questi iniziali insuccessi, divenendo membro di spicco dell'avanguardia artistica del proprio paese, pubblica ulteriori raccolte di poesie, tra le quali Cancione Sero Mancero Gitano, forse il suo libro Pia Esponente Uno Conosciuto. Sul fronte teatrale, Mariana Pineda, con fondali disegnati da Dala, debutta con grande successo a Barcellona. Tuttavia, verso la fine del 1929, Garca Alorca cade vittima di una depressione sempre Pia Esponente Uno Profonda, esacerbato frutto dei sensi di colpa per una omosessualità che comunque sempre meno riesce a mascherare con amici e parenti, e tutto questo mentre al contrario la fama del suo romancero Gitano cresce enormemente. Vedendo peggiorare le condizioni psicologiche di Federico, anche se forse ne ignorava la causa, la famiglia di Garca Alorca organizza per lui, con la complicità di Fernando de Loseraos, amico attraverso il quale riesce ad ottenere una borsa di studio, un viaggio negli Stati Uniti d'America. Questo viaggio, ed in particolare il soggiorno a New York, dove Federico frequenta per un breve periodo la Columbia University, assume una importanza fondamentale nella produzione poetica di Garca Alorca, che di fatti compone quello che molti giudicano il suo capolavoro, ovvero sia poeta e Nueva York, incentrato sull'alienazione dell'uomo nella società moderna e sui meccanismi che permettono ai pochi di dominare sui molti. Un'opera molto avanti sul resto del panorama artistico coevo, cosa negazione come lo sono le piacesteatrali che realizza in questo periodo, Asaku e Pasen 5 ha più o meno ossi e elpa indicatore ordinale maschile e blico, tanto che quest'ultima verrà pubblicata solo al termine degli anni 70 del 900, e mai integralmente. Dopo un breve ma importante e intenso soggiorno a Cuba, il suo ritorno in Spagna nel 1930 coincide con la caduta della dittatura di Primo de Rivera ed il ristabilirsi della democrazia. Nel 1931, Garca Alorca viene nominato direttore della compagnia teatro universitario La Barraca. Questa compagnia, fondata dal ministro dell'educazione, riceve l'incarico di portare in giro la propria produzione nelle pia esponente 1 remote aree rurali del paese. Garca Alorca non si limita a dirigere, ma ne ha contilde anche attore. Ha contilde durante questo tour con La Barraca, che Garca Alorca scrive le sue opere di teatro pia esponente 1 note, e denominate trilogia rurale, Bodas e de Sangre, Irma e la casa di Bernard Alba.Scoppia alla guerra civile spagnola. Garca Alorca lascia Madrid per Granada, con l'intenzione di salutare il padre. Garca Alorca e suo cognato, che era anche sindaco socialista di Granada, sono effettivamente arrestati mentre si trovano a casa dei Rosales, loro amici falangisti. Garca Alorca viene fucilato da militanti del movimento politico Ceda all'alba del 19 agosto 1936 per Shaco Piraito di sinistra, omosessuale e massone e gettato in una tomba senza nome a Fuente Grande de Alfa Carne ed intorni di Vaznar, vicino a Granada.